Passa a maggioranza il primo bilancio di previsione a trazione amministrativa del Comune di Taurianova dopo sei lunghi anni di gestione commissariale. Con il dissesto economico e finanziario ormai alle spalle dichiarato nel 2017 e terminato il 31 dicembre 2023, l'ente ha ripreso pienamente possesso delle sue prerogative di indirizzo e programmazione in ambito economico e finanziario. Un ritorno alla normalità non privo di criticità e pericoli come evidenziato dal sindaco Roibiasi nel corso del suo intervento. Il bilancio ha trovato l'astenzione del consigliere di Forza Italia Nello Stranges e il voto contrario dei consiglieri appartenenti al gruppo Fratelli d'Italia Daniele Prestileo e Filippo Lazzaro, ancora una volta critici, nei confronti dell'amministrazione. Assenti i consiglieri di minoranza Fabio Scionti e Raffaella Ferraro del gruppo Azione e Simone Morafioti del Partito Democratico che avevano chiesto uno slittamento dei lavori in seconda convocazione. Questo bilancio di previsione è il primo di natura amministrativa dopo l'uscita del Comune dal dissesto, ha affermato con soddisfazione il primo cittadino Roibiasi. Confermare in questo quadro le aliquote massime per Imo e addizionale comunale IRPEF, quindi il lungo elenco di attività messe in campo dall'amministrazione e gli impegni per il futuro, un ragionamento racchiuso da Biasi nell'illustrazione del documento unico di programmazione. C'è grande coerenza tra il nostro programma elettorale e i contenuti del DUP e i risultati ottenuti. In questi anni di lavoro ha scandito il primo cittadino, uno sforzo che ha guardato in più direzioni e che oggi ci consente di raccogliere risultati importanti per la nostra comunità.